Continuiamo a ragionare su un ramo che presenta delle impedenze in serie, nel nostro caso stiamo facendo un esempio appunto con tre impedenze in serie, per vedere una formula di uso pratico che ci consente di arrivare rapidamente a determinare la tensione ai capi di una delle impedenze della serie. Quindi abbiamo che per la legge di Ohm generalizzata, ovviamente la corrente nel ramo con le tre impedenze in serie è data dal rapporto fra la tensione totale ai capi della serie e diviso l'impedenza equivalente della serie, che abbiamo chiamato Zs e che è data dalla somma delle tre impedenze Z1, Z2 e Z3. E questa non è altro che l'applicazione della legge di Ohm generalizzata al ramo avendo tre impedenze in serie. Adesso che abbiamo espresso la tensione, noi possiamo scrivere, cioè che abbiamo espresso la corrente, scusate, possiamo scrivere l'espressione della tensione ai capi di ogni singola impedenza. Sempre per la legge di Ohm generalizzata abbiamo che la V1 sarà il prodotto di Z1 per I, quindi se andiamo a sostituire la I che abbiamo riscritto sopra, vediamo che il nostro prodotto assume questa forma, V per Z1 diviso la somma delle tre impedenze Z1, Z2 e Z3. Stessa cosa possiamo fare per le altre due tensioni, la V2 ai capi di Z2, sempre legge di Ohm generalizzata, sarà data dal prodotto Z2 per I, quindi sostituendo V per Z2 fratto la somma di Z1 più Z2 più Z3, ovviamente tutti i vettori. V3 analogamente Z3 per I, uguale, riscriviamo ancora, VZ3 fratto Z1 più Z2 più Z3. Tutti i vettori. Adesso notiamo delle analogie in queste espressioni della tensione, quindi per vederle chiaramente ridisegniamo le tre impedenze in serie per visualizzare esattamente che situazione circuitale ci troviamo, quindi V è la tensione totale ai capi della serie, Z1, Z2 e Z3 sono le impedenze in serie, quindi attraversate dalla stessa corrente. Ricordatevi che questa è la condizione affinché due o più impedenze siano in serie. Supponiamo di voler calcolare la tensione V2 ai capi di Z2. Come faccio? Prendo l'espressione precedente e vedo che la V2 è data dal prodotto di V per il rapporto fra l'impedenza Z2, dove ai capi della quale io sto andando a calcolare la tensione V2 di mio interesse, diviso la somma di tutte le impedenze della serie, quindi la Zs. Quindi questa espressione vale per tutte le impedenze andando a sostituire alla Z2 l'impedenza ai capi della quale noi siamo interessati al calcolo della corrente. Quindi l'espressione così valida, in questo caso per V2, ma sostituendo a Z2 la corrispondente, impedenza è la formula che prende il nome di partitore di tensione. è una formula di utilità che ci aiuta a determinare il valore di una tensione ai capi di un'impedenza che fa parte di una serie se conosciamo la tensione totale ai capi della serie.